musica 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 dammi vieni vai allora allora clicchiamo ho cliccato che fai pure tu voce libera magari si mette un ragione esatto allora lui grande maestro di voce libera allora bravo visto lo sbrigato visto dove sono dove sono allora c'è qualcosa di verde posso camminare posso camminare che è successo ho premuto control con shift si corre devo scappare che tipo shift sicuro con e si eeeh corre quasi per niente e leva ti vuoi che si fa ho levato il verde come faccio a rimettigliarlo aspetta premiti un po' il tasto destro mi sembra che lo vuoi prendere prendi e per usare che uso un tavolino questo è andato a male questo è andato a male questo è andato a male questo è antico ciao amico ti posso usare a teno eh prendere calcino eh te nemmeno eh allora questo è andato a male questo è spabolato porta bloccata vabbè questo è andato a male questo è andato a male questo è andato a male posizione post parto no era posizione post parto lì c'era un'andata male vabbè ma che cazzo che avrà a fare se sono tutti morti qua pure ecco qua c'è una sedia e mo? ho premuto lì quindi la porta ecco adesso guarda bene dentro le stanze ah non vuoi cercare il post parto posso prendere la gamba? no ma c'è ancora tu ma che vuoi? questo sfaragirlato questi si illuminano già sono fosfori scef non mi sono andrancarsi quello è il control quella quella che è stato? me lo dimenticavo che ci si abbassava quella questa non si apre no guarda bene le stanze allora adesso ho fatto di testo un morto qua vediamo questa ci stanno dei piedi e anche una capoche una capoche vediamo bene qui oh la chi ha il brutto morto di merda quella quella chi cazzo sei? chi cazzo sei? quella un'altra chi è che bussa? chi è? oh la merda oh la merda oh la merda oh la merda e che cazzo ci facciamo con sta specie di chiave pistola? sta sbagliando ci apro il termosifone quella si è chiuso? no io non ho l'affanculo adesso tiro una a destra da quella che voce aaaaaaah la testa bubu porta bloccato ciao mmmm mettere c'era ansia questa cosa vediamo si è aperto se io apro e tu esci io tiro a testa aah allora quest'altra che è negra di porta che non si apre la spesaa la spesa la spazzatura la spesa ok la sega non la posso prendere allora la sega sta a mezza dentro terra Bannaggia la troia, io volevo prendere la sega così spacca tutto Spacca! I think can they watch it! Si sente osservato? Merda! Give love it! Un brutto stronzo! Press E! Cos'è una bomba a mano? Premo le mentre passo... Ma che cazzo è? Mi è partito un salame addosso! Mi è partito un salame addosso! Io pensi questo e parte un altro salame qui in mezzo angolato! Mi è partito un salame addosso! E' fantastico! Lì c'è un salame con gli occhi luccicanti te lo dico io! Eccolo! Eccolo! Brutto stronzo! Adesso ti prendo! Ha scagato! Ha scagato! Salame! Porta bloccata! Guarda adesso di parte! Ma come c'è quello il salame che mi è venuto addosso lo dovevo schifare? Io gli sono andato in cuore! In teoria si! Bobbaho! De testa! Allora! Come al solito! Aaaaaaah! Hai visto il salame? Hai visto il salame? Ma è me! C'è qualcuno dici in tuo Game 4D Madonna! Una porta in faccia! Ciao scatola! Vieni con me tu! Brava! No! Allora! Press E! Una chiave! Natra! Questa è una porta presso! Va bene! Dammi! Lo uso come scudo! Television! Lo Hayes! Bruttomichione dove sei? Ecco adesso riparto un salame! Iknow riparto un salame! Ci può sapere in GLSU! Ma che cazzo adesso lo muoio?! No! Tu vieni che dov'è... Ma ci posso sapere in empresa porta non è? Devo trovare la porta giusta? Si! Devi trovare la porta giusta a sortire! questa è già aperta tu non ti apri eh vado al culo ma ti è nato il salame? anche ne so è partito boh ma ti non è stato morto si è spiaccicato al muro ah tu ti apri aaaaaah che ci trovo io qui ma devi andare per forza con sta scatola a mano si perché mi protegge SCATOLO provocivi tu adesso quale porta potrò ormai aprire? TU no questo c'è tipo il rilevatore ottico dobbia la capocia di qualcuno insomma niente non ti apri aaaah la scatola aaaah la scatola tu sei già aperto tu no strunz aaaaaah la scatola aaaaaah tu ti apri ci tronzo una scatola fatta di sotto un lavandino lucidante un lavandino lucidante che cazzo ci faccio un lavandino lucidante niente un cestino niente il cesso nel cesso eh lo sai che c'era anche nel cesso eh ma periché si richiede la porta da sopra aaaah cazzo dove vai aaaah aaaah cazzo dove vai aaaah aaaah ma l'altra porta aaaah ma l'altra porta aaaah ma l'altra porta aaaah ma l'altra porta tu te eri già aperto e manco te apri vediamo sono solo queste le porte le cioè queste che sto vedendo adesso o ce le sono ce le sono no ah dici queste eh adesso tu sei tu sei tu merda ha perso la scatola vieni e lascia perdere sta scatola da mia no vedi che tu hai la scatola no vedi che tu hai la scatola vieni eh eh che cazzo scatola ah ah vaffa cura vaffa cura non te la fai entrare la scatola no vuoi non entri io entri con la scatola eh che obbiasca bu 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 presto eh che scatola ma cazzo ti diavo non ti vedo se io non ti vedo tu non mi vedi che è ah c'ho una scatola in mano stai attento e questo da ragazzo scatola allora ah vaffa bu si ok però fa leggermente impressione sto gioco dici ok bu hai infilato una guarda tu l'ha infregnata quella scatola vieni con me vieni con me no ormai l'hai infregnata no ho preso le doppie ecco l'ha fatto per destro no infatti una sedia si la sedia fa più male la sedia fa più male infatti son purido film di puttana ahahahah 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 boh boh e mo e mo c'hai tipo una chiave che sembra tipo diversa dalle altre è finito le porte ah la è quella con lo scanner con lo scanner con lo scanner ahahah ahahah lo scanner è quella con l'occhio è un bucchiasu vado vado ecco no ah brutto figlio di puttana che cazzo vuoi morito pezzo di merda non ho fanculo dove cazzo sei figlio di un occhio che morta questo è lo scanner con la mano che cazzo dove adesso ti stacchi la caposcia uno e la mano guarda le stanze dietro ah proprio indietro indietro è un corridoio hai fatto dritto eh ah no questo non è esatto brutti sacchi di merda brutti sacchi di merda no tu ti apri quindi me ne credo un cazzo tu ti apri quindi me ne credo un cazzo tanti ai salami che si sparano un cesso un cazzo di cesso che schifo che schifo l'occhio un morto ok dopo che ho fatto l'occhio io levo questo gioco ok adesso parto un altro salami dico un cazzotto un salame eh vabbè eh vabbè capita che cosa ragazzo fai mi blocchi il strozzo eh ma ci ho testato una mano adesso mi capita uno stronzo che mi rompe cazzo fuori da porta bobbusei te te cazzo ce l'ho indietro che cazzo ce l'ho ancora dietro Aprevi! Adesso parte un altro salame Non è un salame! Non è un salame! Non è un salame! Ammanate questa... Ma non è un salame! E guarda adesso... Scusa... Burra montagna! Ah! Cominci a correre in chiudo! Porca puttana! E' un salame enorme! I see the exit! E' un buon altro salame! I need to return to my wife! Enjoy it! Azzamico quanto sento! WEEEEE! Finito! Che brutta fine! Ma che cazzo! Mi ha attaccato anche qualcosa! No! Il gioco finisce così! Ma è cascato o è morto? Morto si! E' il gioco di un cazzo! Vabbò! 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 Vabbò!